Leonardo Silva Revisorek Marco Revisorek Marco Revisorek Impatto sociale. Se ne parla un sacco, no? E allo stesso tempo non sappiamo bene di cosa si tratti. È un po' una leggenda metropolitana, non si sa come funzioni, chi siano gli attori di riferimento. E soprattutto perché sembra avere sempre più a che fare con tutti invece che con pochi addetti ai lavori. Una delle frasi preferite su questo tema per me è il fatto che l'impatto sociale non può più permettersi di essere solo giusto. Deve diventare efficace. Infatti, se ci pensiamo, i progetti sociali non hanno mai avuto un gran movente funzionale, ma emotivo. È una cosa recente, quella di voler fare del buono e il giusto in modo anche efficace. Però, quando guardiamo l'efficacia nei progetti sociali iniziamo a notare subito un paio di problemi. Il primo. Tutte le problematiche sociali sono weak problems. Significa che non sono problemi lineari. Sono problemi complessi, sistemici, che non sono risolvibili né attaccando un aspetto isolato né da un solo attore. Il secondo. La scalabilità. Anche quando riusciamo a trovare un progetto particolarmente efficace, nel 90% dei casi, non ha una struttura che gli permetta di arrivare in tutte le località dove quella soluzione è necessaria. Questo è un problema. È un problema perché significa che anche quando riusciamo a investire sufficientemente tempi, risorse ed energie in trovare una soluzione efficace, poi ci blocchiamo per modelli di diffusione obsoleti. Questa dinamica è ulteriormente alimentata dal fatto che siamo ancora attaccati a modelli reattivi. Succede qualcosa, c'è una crisi e agiamo. D'urgenza. Cerchiamo di contenere i danni, con soluzioni frammentate, isolate, mai coordinate e con inutili duplicazioni di sforzi. Solo ora, grazie all'era dell'informazione, inizia a sorgere un nuovo paradigma. Quello proattivo. Quello che dice ma se sappiamo come funziona, se sappiamo cosa succede e perché, perché non usiamo le informazioni che abbiamo a disposizione, dei modelli efficaci e agiamo con tempo, per prevenire il peggio. Ma è davvero solo una questione di risparmi, di tempi, soldi, energie? O c'è dell'altro? La cosa interessante è che oggi la psicogenologia ci insegna che i traumi provocati da crisi, come l'olocausto, la malnutrizione cronica, la violenza sociale o la crisi di rifugiati, creano delle conseguenze sociali, psicologiche e genetiche. Sì, anche genetiche. È stato dimostrato che questi traumi hanno conseguenze decennali che si trasmettono di generazione in generazione finché non vengono risolti o sanati. Questo fatto ci mette avanti la consapevolezza che fare sistema, salvare risorse, o prevenire, o collaborare, o condividere modelli, già non è un'idea carina. Diventa un obbligo morale. Sì, ma vi starete chiedendo chi è questa bionda che alle 5 del pomeriggio di una domenica ci racconta queste cose complesse, quindi giusto per conoscerci meglio prima di continuare? Ho 28 anni, ho studiato qui vicino a Brera, poi un anno a Bilbao e ho giocato 12 anni a pallavolo. E mi sono laureata nel 2011 con una tesi su arte, psicologia e sociologia. Bel mix, no? Lo penso anch'io. Infatti, quando mi sono laureata non avevo la più palla idea di cosa fare. Mi sentivo persa. La mia passione per il sociale, per le politiche internazionali, per la tecnologia, per la psicologia, non riuscivano a trovare un canale per esprimersi, uno spazio, ancora meno nel marco della crisi generazionale ed economica che conosciamo ormai qui da dieci anni. Poi per me è arrivato il 2012. È l'anno in cui ho permesso che la mia urgenza di trovare il mio posto nel mondo avesse la meglio. Io ho iniziato a viaggiare e studiare modelli di impatto sociale e di sviluppo sostenibile in più di 20 paesi nel mondo. Da Macau qui a Milano ai Bahai in Israele, dal CERN ai campi rifugiati in Grecia e Macedonia. Io ho iniziato a notare qualcosa. un fattore in comune, una nota, un elemento ricorrente che accomunava le realtà più disparate del pianeta Terra. E cioè l'insorgere di movimenti che mettevano a disposizione modelli che semplicemente avevano l'obiettivo di permettere alle persone di agire ovunque esse fossero. Tieni, questo modello funziona, usalo dove sei. Fai comunque parte di una cosa più grande, di una causa più grande di te, ma è molto importante che tu agisca su scale locale. Questa cosa ha iniziato a incuriosirmi, ho iniziato a investigare e ho scoperto che il valore di questo modello va molto più in là di quello che io potessi immaginare. È stato infatti dimostrato che quando il nostro cervello è esposto a eccessivi flussi di informazioni su crisi, problemi, traumi, tragedie, sviluppiamo empatia. Sviluppiamo una curva empatica e una conseguente necessità di agire e reagire e fare qualcosa in merito. In poche parole, siamo disegnati per vedere altre persone soffrire e desiderare porre fine a ciò che provoca quella sofferenza. Fin qui tutto bene, no? Invece, purtroppo è anche stato dimostrato che quando questi flussi di informazioni ci sovrastano e diventano troppi, come oggi succede con i nostri telefonini, i nostri computer o i media, ci blocchiamo. Il nostro cervello dice non posso, non sei tu in pericolo diretto, mi stai sovraccaricando di informazioni su problemi e cose negative e non mi dai la possibilità di reagire in un modo che io possa sentire la mia portata. E stacca la spina. Le conseguenze le conosciamo tutti. Isolamento, distanza, apatia, disinteresse, ignoranza, esclusione, intolleranza, violenza. Questi sono fattori le cui cause conosciamo molto bene. Ed ero di Domeni nel 2015 quando ho capito che non possiamo più permetterci di ignorarle. Perché intorno a me c'erano solo migliaia e migliaia di rifugiati e di migranti, ma anche migliaia e migliaia di cittadini e comunità locali e tutti con la stessa domanda in testa. Che cosa facciamo? Da dove iniziamo? Che cosa posso fare io? perché ho bisogno di fare qualcosa. E così è nato Impact On. Ho sentito l'urgenza di creare un'organizzazione che si concentrasse solo e esclusivamente sul trovare, analizzare e selezionare progetti di impatto sociale e ambientale esistenti, efficaci, e metterli a disposizione di altre realtà in tutto il mondo. Banalmente siamo un ponte tra il talento, il genio dell'impatto sociale locale che mai potrebbe diffondere la sua formula in tutti i luoghi necessari e studenti, imprenditori, università, ricercatori, governi, imprese interessati in agire per le cause sociali e semplicemente bloccati dalla complessità di questo settore o delle condizioni che li circondano. Il progetto è nato un anno fa, quando abbiamo deciso di lanciare un primo pilota usando solo PDF. Abbiamo scelto un progetto che è Blood for All, che permette di creare dei posti di donazioni di sangue in caso di emergenze, in scuole o in palestre. Era fondamentale per noi capire come poter comunicare un progetto non affinché venisse semplicemente conosciuto, quindi emotivo, fattore emotivo, ma perché venisse replicato funzionale. Il progetto in meno di tre mesi è stato replicato in 19 città del mondo. Quindi abbiamo continuato a lavorare, perché per noi è fondamentale scoprire come per esempio usare Big Data e domani Machine Learning per rimuovere quanto più possibile i colli di bottiglia dei processi attuali. Abbiamo scelto un altro progetto in occasione della settimana del cambio climatico. È un progetto che permette a qualunque educatore, professore o attivista fare un'attività con dei giovani in cui si evidenzia la fondamentale connessione tra quello che consumiamo tutti i giorni e come ciò influenza il cambio climatico. L'abbiamo lanciato un mese fa in inglese e in spagnolo ed è stato tradotto da comunità in francese, in arabo e in portoghese e verrà usato in più di 50 città del mondo. E vi direte, chi sa i budget di marketing? Zero. I budget di marketing o l'advertisement sono la prima ragione per cui conosciamo tantissimo dei progetti che non necessariamente sono i migliori, mentre le arti rimangono nell'ombra. introvabili, persi per sempre. È quindi per noi fondamentale riuscire a usare design, psicologia di informazione e tecnologia per creare un paradigma alternativo. E uno dei pilastri di questo paradigma alternativo per noi è quello che chiamiamo blueprint. Un blueprint è una formula, la ricetta, l'insieme dei componenti che fa di un progetto un progetto efficace, la proposta di valore. Quindi non usiamo più descrizioni accademiche o emotive del perché un progetto è buono e giusto, ma perché funziona e quali sono gli elementi da prendere in considerazione quando una persona o un'organizzazione lo volesse replicare in qualche altro posto. Per farvi un esempio, una delle cose che specifichiamo nel blueprint è la tipologia di progetto. è un intervento, è una cosa che dura poche settimane e pochi mesi o è da mantenere del tempo? Qual è l'impatto generato? Qual è il valore? Qual è la proposta? Qual è il target? Chi sono i beneficiari? Qual è il grado di complessità? Quanto è accessibile ai famosi non addetti ai lavori? Quali sono i tempi e le risorse in media necessarie, incluse per esempio leggi particolari o permessi governativi? Qual è la compatibilità di contesto? In quali contesti è stato utilizzato? Quindi in quali altri contesti c'è un'altissima probabilità che gli effetti siano positivi? E quali sono le avvenute replicazioni? Un ulteriore riferimento. Un'altra cosa che facciamo è che ci allineiamo alle grandi agende della sostenibilità, come l'agenda 2030, che sta marcando un Nord al quale puntare, tutti inclusi, ma non necessariamente stanno dando delle formule che permettono a persone e organizzazioni di agire e cominciare a implementare e raggiungere questi obiettivi. Se penso a quella ragazza nel 2012, persa, oggi so che ho incontrato il mio posto. Perché tutti i giorni conosco persone e organizzazioni la cui genialità e i cui progetti incredibili fanno impatto sociale e locale, ma non ho mai pensato che davvero arrivassero il momento in cui potevano cambiare il mondo. Un esempio? Ecco la Drisos. Un progetto di un'organizzazione in Argentina, in Cordoba, che ha trovato il modo di costruire con materiale locale una pressa meccanica open source, formula aperta, e prendere PET sporco, quindi neanche da lavare, borse, plastica, e fare dei mattoni. Chiudere i mattoni tra lamine di legno con cui si fanno dei pannelli per costruire case sociali. Iperisolanti, iperresistenti, iperleggere, 100% costruite da donne, da comunità volerabili, ma soprattutto un terzo più economiche di qualunque prefabbricato sociale. Questo è un progetto che può fare la differenza per le vite di persone in posti dove c'è plastica, assenza di case, come per esempio nelle località affette da disastri naturali. Un altro progetto, questo dalle California. LavaMai prende autobus che già non possono circolare per eccessive emissioni di CO2, per esempio, perché sono vecchi, le svuota, le dipinge, ci mette un bagno e una doccia e crea dei posti mobili di igiene che girano per la città e permettono senza tetto non solo appunto di avere accesso all'igiene basica, ma fare un colloquio di lavoro o rivedere i loro cari. O ancora, Little of Light, che già non usa solo bottiglie di plastica riciclate, ma ricicla cassette elettriche, lanterne al chirosene, batterie e insegna a comunità locali vulnerabili in tutto il mondo come usare i loro strumenti e le loro capacità per costruire lampade solari, lavorando anche non solo su accesso a energia, ma educazione o sicurezza o accesso a Wi-Fi. Questi sono progetti che potrebbero mai diventare monopoli multinazionali? No. Le loro formule, però, non avrebbero valore in ogni singola località in cui vengano replicate? Io credo di sì. E allora facciamolo. In un momento di crisi storica, con soluzioni dall'alto inesistenti o che non ci rappresentano, riappropriamoci della capacità di agire, di creare, di offrire alternative, di creare un settore dell'impresa sociale davvero efficace, davvero misurato, davvero inclusivo. Perché lo sappiamo che girarci dall'altra parte non fa che allontanarci dalla consapevolezza che già non si tratta di responsabilità sociale, ma di opportunità sociale. Perché sognare un futuro migliore e rendersi conto di avere tutti i mezzi per costruirlo è la nostra più grande opportunità oggi. Dicono che se vuoi, puoi. E se puoi, devi. Quindi, qual è il vostro blueprint? Grazie. Grazie. Grazie.